Il principe Harry spera che il suo libro di memorie, che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022, andrà a ruba. Ma un nuovo sondaggio Yougoff suggerisce che quasi l80% è non molto interessato o non interessato affatto due terzi degli inglesi non sono affatto interessati a leggere il nuovo libro del principe Harry, con oltre un terzo che afferma che è inappropriato per lui pubblicarlo. È stato rivelato che il duca del Sussex ha segretamente lavorato a un libro di memorie per quasi un anno. Harry, 36, ha confermato lunedì l'imminente uscita della sua autobiografia. È pronto a discutere di Magixit e ad aprirsi sulla famiglia reale dopo aver collaborato con uno dei migliori ghostwriter americani. Il libro uscirà alla fine del prossimo anno. Ma un sondaggio Yougoff trovato dice che quasi una persona su dieci afferma che non avrebbe dovuto firmare l'accordo di pubblicazione e la maggior parte non lo leggerà. N. Un sondaggio di 5808 adulti nel Regno Unito, quasi il 40% ha convenuto che la decisione di scrivere il libro non era giusta. Circa il 15% ha ritenuto che fosse abbastanza inappropriato. Punto punto. In un duro colpo per l'editore Penguin Random House, quasi l80% era non molto interessato o per niente interessato a ciò che Harry aveva da dire. Buckingham Palace teme ulteriori rivelazioni esplosive dopo che è venuto alla luce che Harry si è unito a un power ghostwriter americano. Fonti vicine alla famiglia hanno detto al Mirror che il pensiero del libro ha scatenato uno tsunami di paura nei circoli reali. In una dichiarazione che conferma il libro, il duca ha dichiarato Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è quella di raccontare la mia storia. Gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese. Posso aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l'opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero. Una fonte ha detto al Daily Mirror che il libro ha seminato paura nella famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.